È uscito il numero 12 del 2019 del Quaderni degli Amici di Doccia, dedicato alle collezioni delle porcellanee provenienti dalla Manifattura Ginori di Doccia, del Musei Napoletani che fanno parte di quello che era il Polo Museale della Campania, oggi Direzione Regionale della Campania. È come sempre un appuntamento importante l'uscita di questi quaderni ed è molto bello sfogliare questi volumi accurati nei testi, nelle fotografie e nella bella veste editoriale, quindi grazie agli Amici di Doccia per quello che fanno per mantenere vivo l'interesse su queste collezioni. Sfogliando il volume ovviamente la ricchezza del materiale emerge ed emergono degli interessi particolari, mi ha molto colpito il gruppo delle figure plastiche e certamente il gruppo dedicato a tre bambini con capra di Gaspero Gruschi, forse il pezzo più bello dal punto di vista artistico, ma sono molto interessanti anche le altre figure plastiche, le figurine policrome che sono molto divertenti, molto caratteristiche del gusto del Settecento, ma anche le tabacchiere che sono così divertenti. È molto bella la placca con il ritratto di Maria Teresa d'Austria e Francesco Stefano di Lorena che è molto raffinata e devo dire anche interessanti i piatti con le vedute napoletane di Villa Pignatelli che sono veramente divertenti e sono anche sintomo di questa fortuna che la manifattura di doccia ha saputo conquistarsi anche attraverso una clientela internazionale utilizzando un repertorio di immagini che potevano essere benissimo diffuse in tutte le dimore nobiliari e anche in mercati distanti da quello di Sesto Fiorentino. Ovviamente poi le curiosità personali possono essere le più varie. Mi ha molto attirato il gruppo di 12 manici posate con decori floreali, manici in porcellana. Sono veramente divertenti e anche sintomo di quella raffinatezza della tavola, della convivialità del Settecento, sono opere datate a 1760-80 circa e sono molto interessanti e divertenti per anche insegnare quella che è stata la grande fortuna del vasellame da tavola che partendo da Settecento è arrivato fino quasi ai giorni nostri. Quindi troviamo in questo volume veramente materia per approfondire, per trovare delle conferme ma anche per approfondire e scoprire delle cose nuove. Tanto realmente tutto questo in un momento che è molto difficile per tutti e quindi è un ringraziamento particolare quello che va agli amici di Doccia, a Livia Frescobaldi, a Livia Ruccellai, a tutto il gruppo e naturalmente a tutti coloro che hanno partecipato a questo volume per continuare nonostante tutto a proporre ricerche, a proporre studi, a proporre progetti. Questo è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento e questo è quello di cui ha bisogno il Museo della Manifattura di Doccia. Voi sapete tutti che il museo è stato qualche anno fa acquistato dallo Stato, non sto a ripercorrere le complesse vicende ed è stato assegnato quello che all'epoca era il Polo Museale della Toscana, ora direzione regionale della Toscana e quindi in qualche maniera è ancora sotto la tutela nostra, in particolare mia, ma come certamente sapete è stata istituita una fondazione che è in corso di assestamento, di avviamento, in realtà è già stata istituita, deve essere solamente avviata. Chiaramente quello che sta succedendo in questo momento ha fermato un po' tutte le attività anche di natura procedurale, ma ci aspettiamo che a breve questa fondazione sia veramente operativa e quindi poi possa prendere in mano il museo e iniziare quelle attività che tutti attendiamo da un museo. Per adesso lo custodiamo, facciamo tutti i lavori possibili in questa situazione e come dicevo prima non fermiamo né noi né gli amici, gli amici di Doccia per in particolare, non fermiamo le idee, le ricerche, i progetti, tutto quello che tiene vivo l'interesse per una bellissima collezione, per una produzione di porcellana, quella della Manifattura di Doccia che come questo volume dimostra è presente nei musei di tutto il mondo e nella storia, nella cultura, nella vita italiana ma anche internazionale che sempre più queste ricerche vanno ad approfondire.